E ciao a tutti ragazzi, io sono FireBet e benvenuti con questo nuovissimo video. Oggi, come potete vedere, è uscito l'aggiornamento di Brawl Stars. A parte i premi del Brawl Pass, ma il Brawl Pass sarà un altro video, già ve lo anticipo. Se vedete lo sfondo, già abbiamo i classic rap. Prima di iniziare, vi invito ad iscrivervi al canale, mettete un bel like, premiamo su Va. Questi sono tutti i premi che, vabbè, non ho riscosso, ma vabbè, sono tutti pin. Ecco qua l'aggiornamento. Oltre a nuova stagione, ma vabbè, questo si sa, il vero aggiornamento è questo. Che regala anche gemme, oltre alla skin di SpongeBob. Trocca per scoprire, ok. No, vabbè, questa non è. Ah, gratuita. Continuo un po' a pensare, ah, un po' a... Ah, sì, i potenziamenti. Ok? Ah, la bolla. Ah, sì, questi sono tutti i potenziamenti che si usano. Infatti, ora li proveremo. Tipo, con tutti questi brawler, ok, capito, capito. Ce ne sono una marea. Nello shop, ok, vabbè, giustamente si possono shoppare, ma questo non è tanto una novità. I verdoni si chiamano. Qua quanti verdoni si possono prendere. Mamma mia, quanti verdoni, vabbè. Qui, ma questi sono i potenziamenti, quelli con le bolle, che ora li proveremo. Qui mi regalano cosa. Sì, veramente, le ho tenute solamente per oggi. E anche a punti pin. Comunque, non conviene shoppare da qua. Uno shoppare da qua non costa le 100 gemme. Che poi, vabbè, tutte le skin penso che le shopperò. Piccolo spoiler. Proviamo se... così. Facciamo così, senti che c'ho pure la skin figa. Ah, quasi guarda i verdoni. Allora facciamo da qua. Caccia le meduse. Che figata la schermata di caricamento qua. A few moments later. Guardate la schermata di caricamento, mamma mia. Che aggiornamento perfetto. Come ha fatto il leone? Ah, vabbè. L'avrà trovato. Mezzo che ha già shoppato, mamma mia. E qua che dobbiamo fare? Ma dobbiamo prendere le meduse. Ma si ricarica. È tipo una sedia, tipo con i bulloni, però qua con le meduse, giustamente. Ma le meduse dove stanno? Dove stanno le meduse? Questo non so se l'ho già detto, ma penso che è l'aggiornamento più figo che ha fatto Bro Stars. La collaborazione più che altro. Ok? Quasi un altro po' che stavo per perdere. Qua mamma mia, due meduse ha una botte, che fortuna. No, quello qua tu se ne ha preso. No, 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 dove va? E dove vai, bro? Oh no. Mi sa che mi ha killato. Non è vero. Ma quando vado? La prima è vinda. Ora sono curioso quanto i verdoni mi dà, sinceramente. Abbiamo anche sforato 23 su 20. Vediamo subito. 100. Ah. Ci sta. Ma io non ho capito. Ora, ah ok, non posso più prenderli, ok. Abbiamo anche su dominio e su duelli, ok. Speriamo che questi compagni giocano. È uscito a mo', quindi ci sta. Proviamo se ha sopravvivenza in 3. Però con un altro brawler. Eh, non lo so. Giallo. Oddio, che strano. È una 3v3, però... Ah, ho capito. Che fighe. Gli ostacoli. No? E quel powerpad è uscito, vabbè. Prendi i cubi del cielo, il tutore. Ok. Che lato godo? In teoria. Ok. Chi ha messo il coso del pagliaccio? Ma dai. Ma quando sono forti queste palle qua che scoppiano. Perché, giustamente, fanno danno. Questa è una modalità figa, sinceramente. Ma se questo lo blocco, godo. Forse non è stata una buona idea prenderlo. Ecco, appunto. Mamma mia, quando era forte, vabbè. È andata bene. Chi è che è spaccato qua? Va? Ci stanno a prendere tutte e tre. Oh. Vabbè. Certo che io ho una mira di un grigetto, ma vabbè. Abbiamo 14, 16 power up. Mamma mia, chi ci ferma? È tipo scontro finale, ma non è apparso lo scontro finale. C'è sto danno, ma che c'è dall'inizio che mi sta seguendo. Dov'è prima? Non è qua. Appunto. Ma chi è che spacca tutto? Ma? 16 power up. Mamma mia, chi ci ferma? Mi ha chiamato con 16 power up. Mitico. Vabbè ragazzi, spero che questo video in relazione a tutte queste cose vi sia piaciuto. Spero che sto clan... Ah, ok, ok. Stanno iniziando. Perfetto, perfetto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così stato, iscrivetevi al canale. Mettete un bel like. Ci vediamo nel prossimo video.